Musica Sì, faccio tutto perché ti voglio velocizzare Velocizzate Sì, vedo velocizzate Vai, vai, vai 3, 2, 1 Ma vai E bentornati a tutti ragazzi in questo video del MVP Unleashed Cioè un Enderman Pazzarello Mi segue e anche un Ulisse Pazzarello in chiamata Faccio ragazzi Faccio ragazzi Faccio ragazzi Faccio ragazzi Volevo farvi vedere Eccala 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 Allora, volevo farvi vedere un attimino i progressi che ho fatto qua Che sto morendo Morrendo Un cuore Un cuore Un cuore Un cuore Allora, solo arriviamo Allora, vi volevo dire ragazzi Sì, ho disotterrato la... No? Che bello sponchillare gli Enderman Eh, ho disotterrato la mia... La mia... Cos' si chiama? La mia piramide Mi messo un po' di torse e poi dovrò finire di... Cosare meglio Qua ce la faccio Sì Ah, non ce la fai Ma no dentro La casa è proprio la cosa Non ce la fai Vedrai Vedrai Nel piano su di sotto farò tutto Allora, devo farmi una cesta assolutamente Ah, ho trovato due borsette Cosa troviamo dentro? Ok, Steel Sword Eh, un piccolo lo Steel Picax Eh, io c'ho un Tanium Picax Eh, bello è male, è quello in ferro Non è vero Non è vero Io ho diamanti Non è vero Ti ho sentito lagcare Monster lag Monster lag? Stai lagando tantissimo l'Isletto, non hai idea? What? No, uniculagio L'infinito Ok, uniculagio ragazzi ragazzi anch'io non laggo non è buono oh cavolo no tu laggimi perché se tu sei una bumi ti rilascio hai la legna hai la legna stai pingando non stai niente non mi dici niente oh mio dio what hai lo sui ragazzi ok ci sono a nulla hai capito capito adesso un po' di roba adesso devo mettere apposta la piramide perchè mi è attualmente esplosa vabbè capita dai a un'altra parte io mi ho fatto un po' di dentro ora devo rifarlo di nuovo è simile ma poi com'era ecco perché non mi scivono i blocchi era strano il fatto eh no e poi ero io no ma non so perché ti ho avuto un caldo di connessione solo la tele come di marda strano allora vabbè mi rende un po' di torcia tu li? no mi rende un po' di torcia mi rende un po' di torcia mi rende un po' di torcia allora così con la tico dove sono dai mi porti le torcia no dai la legna mi serve la legna vado a prendere io vado a prendere la legna ci vuole l'albero 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 è in descrizione la tex che c'entra la tex ok per fare l'albero ci vuole il seme per fare il seme ci vuole il falegname per fare il falegname ci vuole la sua mamma no ci vuole queste siamo qui le seghe è giusto onesto ok allora mettiamo il nostro caramico son stevan son stevan che è entrato anche perchè non facendo parte della serie e quindi adesso lo banneremo perchè vi do su vi fa non devi portarti da me questa è mia questa è mia la mia roba che bello il nostro piccone dietro aia mi hai picchiato mi hai fatto male quella scuola che mi hai picchiato no sono te con cosa cosa ti picchiare la gente aia anche chip jack anche chip jack è arrivata ouch ouch ciao chip jack ma è lontanissimo ma è lontanissimo è stato da prenderti i ricogli no no vedi 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 corri corri scappaccia nemesis ne hai presi tu vabbè lontanissimo ti puoi fare il kit era qui io non l'ho trovato ma no sti clip ragazzi davvero sono troppo male no vedi c'è un altro no vedi c'è un altro è assurdo ti giuro i ragazzi sono stanzi sti clip hai calamita quanto si labia di più scusami eh normale è tipo ora quello che esplode immagina poi immagina poi ho messo la calamita per prendere questa roba perchè sto usando un piccone di ferro non lo sapete eh mamma anche io ho detto che vuole iniziare il motone mi fai ammigliato di no o non li hai messo l'anima che vuole facciarmi hai messo nell'angolo ok posto dove sei dove sei Uli ecco proprio un po' di roba uuh ipad vero ti rompono le cose fighe si si perfetto però adesso ho smarrato un sito dove c'erano la wiki ho scenduto le cose ti sono subito di metter anche repero repero, flame, velocità, after eh insomma devi aumentare i fear sai quanto cazzo stai da aumentare un carattere eh ma ho visto tipo zoomati in blaze bowder invece di un carbone eh più punti bonus E' un po' di piccola carota e tu no. Non me ne sbagliate un cazzo e tu no. Perché appena farai l'orto te la vengo a rubare. Ma parapero. Anche perché ho visto tutto il cibo quindi dovrei mangiare. Oh, che cosa è? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? C'è mortale il creeper in questo parquetto ti giuro. No, mi avevo inshottato. Come mai che non porto mai niente cazzo. C'è mortale quel creeper in questo parquetto. Ah ma io i pantaloni li ho persi tempo fa. Adesso mi sono accorto. Mettere del lagno, mettere del lagno, mettere del lagno. Ok ragazzi ho subito a prendere un po' di lagno. Ok intanto. Creeper su di. Ho fatto uno scherzo adesso. Ok il nostro caro amico è il mocha che ci da un po' di bastoncini. Guarda il bastoncini. Vieni a prenderteli, io non ho tempo di portarteli. Vabbè ragazzi. Questa sessione di mining potrebbe finire a causa di umi. Perchè non vuoi darmi la portata. Adesso mi tippo allora. Eh grazie. Troppo ferro per tipparmi. Non prego un cazzo. Vabbè. Ho capito. Mi devo andare a tippare un me. No, non tipparmi lì. Ah ok. Dami. Ho avuto ferro. Ti do due frecce. Ti do due frecce. Grazie. Ti do due frecce. Grazie. Ma io ho battuto la lega di Yotto. Io ho battuto la lega di Sino. Ho battuto la lega di Canto. E vado ancora a perdere. Ciao Ash. Ah Ash è quello che ha battuto tutto in realtà a parte sempre. Ah no. E per te. Perchè c'è troppa lava? Ma io ho cibo, io ero di cibo. Ma no cibo, vuoi. Più. Eh ha troppo la cina di zombie mi sa. Non c'è quello. Ehm rischio enorme di morire, muore. Eh beé. Oh si questi mi servono. E la vita di lei. No, il forse non lo trovi per niente. Non so se sono tipo... Il quarto mi servirà sicuramente Ma se facciamo tipo un sistema completo assieme di quarto Perché sennò ancora si cerca un sacco Ma no, però adesso non avrete nulla voi Ah, un'altra cosa Il portale non è che non si fa il proprio portale Facciamo un portale in comune Sì, portale è della tua, dai Allora, facciamo tutti assieme perché ci muoviamo tutto Ho visto un end Ah, io sono bravo quando trovo le miniere Si scende di qua, si scende No, che c'è di qua No, che c'è, una No, c'è Gigi Oh, io sono sceso, tu non ho idea quanto È pieno di stronzi, tu non ho idea Eh, la vita è pieno di stronzi, lo sappiamo Non è un problema noi Noi sappiamo i tuoi problemi Chiamate il 408810 Numero sovraimpressione Ora morirà Mi si è rotto il piccone Ok ragazzi, questo Finisce qui perché ho finito il piccone Basta andare a casa, mettersi un punto qua Ok ragazzi, quella è diamante ragazzi No, 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 no Ok, posso dipendere, non mi prendo io tutto qua No, 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 no Che tipo di fatto? Ora ci sfuga ragazzi No, non ci posso credere Non ci posso credere È nascosto Allora, waypoint No, no, no No, no, no Non è possibile Ah, per esempio sono mortali, ecco Il King's Lime ha fatto una kill streak Ma il King's Lime ha fatto una kill streak Ma il King's Lime ha fatto una kill streak Eh, ha fatto una combo Combo 14 Di tutti A me vedi sotto l'armatura Vedi sotto quello Ho trovato una cosa che non so cosa sia Però non è un più cibo Non ho recuperato, uccidere i polli qui Ci sono antipacci Ci sono antipacci Ho letto, vieni qua Ho letto Ho letto Ho letto Ho letto King's Lime Perché largo così tanto Red discontinuamente Perché sta piovendovi È per quello Anche voi lupi non dovrebbero uccidere i galini Allora perché vivono i galini insieme ai lupi? Non si chiedi Perché? 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 E' contro una tua E' contro un poese malvaso Anche il canino è un po' Esatto, anche il canino è un po' Non è il mio cane? Se fosse il mio cane l'avrei già ucciso No, il canino è un po' No, il canino è un po' Il canino è un po' Il canino è un po' Io non ho detto Ho visto tipo Il canino è un po' Lo trovo più Ho po' calegno Ho poca legno Non è un paese sporco Non è un paese sporco Tio mi dice che non lo dico io Non ho voglia A che livello siamo? 23 dove è possibile credi l'antips Tu! Tu, può essere il riding? Ho trovato il force Ho trovato di force Ho trovato di force Io non ho trovato di force Io non gli dobbiamo trovare Mi senti Per me per terra la cia Ah, ho trovato io Ho trovato adesso Ti stai dicendo che un po' di ferro 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 ma va, ok, ma va a piarda al culo ok, diamante, diamante io spero di trovare le spoiler bags diamante, 1, 2, 3, 4, 5 io la farm di xp e tu no io la farm di xp e tu no io la farm di xp e tu no non è la portal gama neanche, guarda chi lo dice che non ce l'ho ok, è vero, c'è un limone, ma non dico in giro c'è un limone, ok c'è un limone, c'è dietro un love spawner eh, gg proprio, lui è sai che voglio iniziare a prendere il diamante ah, c'è un limone ok, adesso devo vedere quanto c'è allora, c'è gente che ha diamanti c'è gente che ha diamanti c'è gente che si metterà a incendiare le foreste ma vabbè, allora, non facciamo nomi mi ti caccio, no, non facciamo nomi il bello è quello spawner di scheletri, vissa ah, gg proprio faccio come tranquillo, fa altre cose allora, dimmi che giorno, ti prego, ok, perfetto allora, dobbiamo... ah, sono qua i still leggings vabbè, sono le scarpe allora, mi serve un piccone e del cibo se c'è buongiorgio, gli faccio buona salve buona salve ok, hai un qualsiasi cosa che mi possa proteggere la lava? cosa? hai un qualsiasi? sai che ho degli ore brush che forse prenderò ti farò crash e rivederò rompirla, non posso più toglierla ma non dire cos'è ovvio, umi ho dell'oro ho dell'oro 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 un secchio c'è un secchio qua, ok, perfetto ok, portogallo dove, scusa non so, adesso devo vedere sai che c'è molta fortuna non ci credo, sono un coglione senza un piccone senza un asce ho messo una fornace sopra una sesta quindi devo prendere un piccone e rompere la fornace per rimettere il piccone e aprire la sesta per prendere il carbone un colpo è simpatico vai via un colpo è simpatico vai via guardiamo roba utile diamanti, no poi dice quarti di quarti mi interessa c'è tanto quarti mi serve andrò nel nether, andrò nel nether hopla ah, il flash 3 è confirmed ah, il flash 3 è confirmed quando avrò te la forse della forse non lo so, io ho fatto del forse però tanto forse ma qui c'è il silver hopla allora direi ragazzi che questa si scende di mining potrebbe anche finire qui no, ma chiamina, aspetta un attimo no, ma puoi giurare troppo io non posso fare i video bunchi perché ho una connessione sta un altro video Ciao ragazzi